Siamo un gruppo bancario cooperativo, nato per continuare ad essere quel che siamo sempre stati e continuare a fare quel che abbiamo sempre fatto, insieme, ancora più forti. Il gruppo, erede di una storia lunga oltre un secolo. Un'avventura mossa da un'idea, che la partecipazione, la solidarietà, il benessere comune, possano essere parte di una banca. Un gruppo vicino alle persone, ai territori, alle comunità. Un gruppo solido, vicino, nostro. Un nuovo modo di fare banca, gli stessi principi di sempre. Gruppo Cassa Centrale, Credito Cooperativo Italiano.